Grazie a Luca Morettini del Pesce d'Oro, oggi grande goleva dove racconta lui? Sì, abbiamo vinto 10-11 a 1, partita si è complicata neanche nei primi minuti, poi a causa della loro assenza siamo riusciti a portarla a casa in maniera agevole. Mi dispiace per loro che sono sempre un'ottima squadra, abbiamo sempre sofferto contro di loro ma oggi è andata così. Sapete già contro chi giocate la prossima? Forse giochiamo con il Miralago dal pomeriggio, può darsi, non sono sicuro ma penso di sì. Ragazzi allora in bocca al loro per la prossima e sempre il mio video, grazie.